E' una buona 240esima puntata di Radio Moo, pensaci tutti! Grande, grande Daniele, ci pensiamo noi, perché oggi siamo, anzi saremo, a una stupenda puntata live con la nostra stazione radio, insieme anche a un altro gruppo che è quello di Scamamoo. Esatto, siamo già stati lì qualche domenica fa, torneremo, ci è piaciuto molto, domani ci saranno anche le letture, quindi tu farai le tue canzoni, io farò le mie scenette, non lo so cosa farò, saluterò i bambini che vorranno venire a trovarci sulla martesana in via delle tuffane, sulla martesana proprio, ecco. Dove forse faremo anche live la canzone del flau, partati il flau. Sì, lo porto, però vediamo, perché non ho studiato molto. Oh, forse. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, dopo, dopo. L'auto è... Eccola là, vedi che la sai già. Sì, la so, però va bene. Allora, noi ci vediamo oggi alle ore 17 sul martesana in via delle tuffane alla stazione radio con Radio Moo e Scamamoo. Molto bene, pensati tu, eccetera, eccetera. Musca, mamma. A presto, a prestissimo. Ciao. A oggi, a dopo.